Uno degli incentivi alla risistemazione del parco di Biramare potrebbe essere rappresentato dalla pubblicazione della Verde Bellezza, guida ai parchi e ai giardini storici pubblici del Friuli Venezia Giulia, edito da Forum, l'editrice universitaria udinese uscito da poco. Il volume, agile nella consultazione, è una sorta di catalogo che di fatto censisce 50 fra parchi pubblici e giardini, fornendo per ognuno di essi una scheda storica ed eventuali orari di apertura. Sei le categorie, parchi e giardini urbani, parchi e giardini appartenenti a palazzi, parchi e giardini delle residenze di campagna, parchi storici, siti di interesse botanico e quelli che vengono chiamati parchi della mente, ovvero i tre parchi degli ex ospedali psichiatrici di Trieste, Udina e Gorizia. 13 sono le strutture triestine, in ordine di apparizione il giardino di passeggio Sant'Andrea, il giardino di Piazza della Libertà, il giardino pubblico, il parco della rimembranza, Villa Giulia, l'ex OPP, il giardino del museo Sartorio, il giardino di Villa Engelman, il giardino di Villa Cosulic, il parco di Villa Revoltella, il parco di Miramare, l'orto botanico e il parco Farneto. Dall'elenco si comprende come i sette autori abbiano voluto includere anche luoghi che i triestini magari non considerano necessariamente parchi o giardini, passeggio Sant'Andrea, sostanzialmente anche il boschetto, ovvero parco Farneto, ma semplicemente percorsi più piacevoli da intraprendere. Il testo presenta anche una versione inglese a beneficio dunque dei turisti, motivo in più, chi ha orecchie per intendere intenda, per non abbandonare al proprio destino queste aree verdi che come ben sa chi viaggia sono un biglietto da visita importantissimo per una città a vocazione turistica o meno.